Un'anziana signora, condito a monitore e sguardo severo, che invitano a farsi trovare impreparati di fronte alle truffe e a telefonare in caso di emergenza al 112. Torna così sabato 2 settembre, dopo la pausa estiva, la campagna per la prevenzione delle truffe agli anziani, te me piaci poco, ideata ed organizzata dal comune di Arezzo e dalla polizia municipale. Gli operatori, riconoscibili dall'abbigliamento contrassegnato dall'indicazione staff e dal logo del comune, saranno presenti con un gazebo all'interno del mercato settimanale davanti all'ingresso di Piazza Giotto, pronti come al solito a consegnare materiale informativo e gadget e a consigliare una serie di buone pratiche utili a riconoscere i raggiri e gli imbroghi più frequenti, dalle visite di falsi operatori, alle truffe telefoniche e gli adescamenti per strada o su internet e sui social, dove è sufficiente un clic sbagliato per essere raggirati a distanza. La scelta del mercato di viagiotto nasce dalla volontà di andare fisicamente in uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli aretini, obiettivo principale di questa campagna realizzata con il finanziamento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Fondo Unico Giustizia e regolata da un protocollo d'intesa tra comune e prefettura.